Nel 2019 il tasso di disoccupazione scende al 10%, meno 0,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Questo quanto rilevato dall'Istat, secondo cui nel quarto trimestre 2019 continua la crescita tendenziale del numero di occupati, che vede un aumento di 207.000 unità, più 0,9% rispetto all'ultimo trimestre del 2018. Nel dettaglio, crescono leggermente gli occupati a tempo pieno, più 0,2%, mentre prosegue l'aumento del tempo parziale, più 3,8%, soprattutto di quello involontario, più 2,9%. Aumentano le vendite dei supermercati grazie alla forte affluenza dei consumatori. Lo rileva Fidacomf Commercio, la cui presidente Donatella Prampolini ha affermato che gli accessi ai punti alimentari sono superiori alla norma e l'aumento di fatturato rispetto alla media si attesta al 40% circa, determinato in larga parte dall'aumento della spesa media. Secondo la Prampolini, i consumatori preferiscono fare spese abbondanti e recarsi nei punti vendita meno spesso. Buoni risultati anche per i negozi che hanno servizi di consegna a domicilio, che hanno registrato aumenti di fatturato superiori al 70%. Il mondo del web si dà alla solidarietà, offrendo servizi ed agevolazioni agli italiani chiamati a rimanere in casa per fermare l'epidemia di coronavirus. Il Ministero dell'Innovazione ha lanciato l'iniziativa Solidarietà Digitale, un'unica pagina web sempre in aggiornamento in cui vengono mostrati software elargiti gratuitamente da giganti come Microsoft, IBM e Amazon. Tra i servizi elargiti ci sono software per lo smartworking, programmi per leggere libri e riviste gratuitamente in formato digitale e servizi per l'e-learning. Sul portale sono disponibili anche le iniziative di alcune compagnie telefoniche che hanno messo a punto offerte ad hoc per il periodo che prevedono agevolazioni, minuti e giga gratuiti. L'11% dei videogiocatori tra i 18 e i 25 anni passa in media 6 ore e 34 minuti al giorno davanti a uno schermo a giocare. Si chiama Binge Gaming e l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha incluso nel 2013 nella sua classificazione statistica internazionale delle malattie. Secondo il rapporto Stave of Online Gaming di Limelight Networks, condotto su 4.500 consumatori in Italia, Francia, Germania, India, Giappone, Singapore, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, dai 18 anni in su, la durata in media di gioco è di 4 ore e 36 minuti consecutivi, con un aumento del 7% rispetto al 2019. Il record va al Giappone con oltre 5 ore e mezza di tempo medio. In Italia il 6% dei gamer gioca più di 20 ore a settimana. Grazie a tutti.